Nel basso Piemonte orientale a circa un'ora di strada da Torino, Milano e Genova si trova un grande territorio, il Monferrato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Ma il Monferrato è molto di più, il Monferrato è magia. Ogni territorio deve essere vissuto, osservato, ascoltato e assaggiato, solo in questo modo ha davvero senso dire Monferrato. Monferrato Monferrato, una terra da scoprire Una terra da condividere Monferrato 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 Monferrato